Una double track in uno dal titolo febbraio che poi febbraio non è né di mese né di titolo perché comunque sta a indicare la data d'uscita in quanto l'argomento che trattiamo è la nuova anteprima di Jolier, uno dei ragazzi più carichi, più freschi e più in fotta del momento. E lo dimostra facendo quest'anteprima che è proprio rap, 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 lì te la rappa, la strumentale è la prima e più diciamo di rivalza, in stile sto tornando, my time is now. E poi la seconda è più nichilista che appunto dà spazio alle parole, allo stile, al flow. Jolier ragazzi è forte, è forte, l'ho sempre detto anche quando sembrava che fosse improntato più a uno stile proprio da hit, ti faccio la hit, ti faccio il ritornello melodico. Sfrutto questo fatto che il napoletano è una lingua molto musicale, la più musicale appunto, diceva Neffa che ci vuole a fare freestyle in napoletano, come l'inglese, sono tutte parole tronche. Quindi insomma è una musica che offre una grande possibilità musicale e infatti c'è una grande differenza tra ieri e oggi, quando prima tu volevi fare musica, a un certo punto dovevi convertirti all'italiano, no? Come Luque ha fatto, che appunto a un certo punto è stato attaccato, tu traditore, hai tradito tutti, sei andato al nord, ti sei messo a rappare in italiano, tu è emblema di Napoli, perché una volta se volevi diventare mainstream era necessario che questo accadesse. Oggi non è più così, oggi il napoletano ha preso vita propria, è una lingua a sé che va bene in tutta Italia e musicalmente va bene per tutto il mondo. Così come noi ci ascoltiamo la musica estera, che magari non capiamo le parole ma ci piace, così è. Di Jolière sicuramente mi aspetto un disco che ha un po' tutte le facce della medaglia, quindi tracce abbastanza underground, tracce belle rappate come quest'anteprima, tracce invece più radiofoniche, tracce che suonano diciamo un po' più da hit. Sicuramente non mi aspetto il concept album dello stesso mood, ma aspetto un disco proprio forte diciamo, che appunto lo faccia affermare maggiormente, gli dia diciamo un titolo da recidivo diciamo. Perché ragazzi non è facile quando fai il primo album e hai un grande successo poi confermarsi. E lui credo che ci stia riuscendo e ci riuscirà, perché insomma quando tu hai capacità puoi regredire e fare roba magari adatta più al pubblico, ma che magari sembra che tu queste capacità le nascondi. Ma quando le capacità non le hai, ti può uscire una volta la traccia buona, dopodiché fai sempre musica diciamo sciappa, di merda. E non è una scelta, ecco. E lui invece è uno che è in grado di scegliere, ha un repertorio vasto, tecnicamente impeccabile. Insomma vi ricordo di quel freestyle che fece a 13 anni, in cui comunque c'è questo video che gira, in cui dimostra di avere un grande talento. E niente ragazzi, aspettiamo di ascoltare per capire un po' come sarà orientato, però ecco, piaccia o non piaccia. E a me personalmente non è che me lo ascolto o mi piace, ma piaccia o non piaccia. Sto ragazzo è un astro nascente che si sta confermando in questa nazione e nel mercato discografico proprio di questa nazione appunto. E su questo non ci piove, perché non parlano solo i numeri come per alcuni dischi, parlano le capacità. M Grazie.